Colloquio con Rina, anima che al trapasso ha scelto di rimanere sulla terra. Ed ecco Rina che risponde in modo seccato alla richiesta di parlare con l'amica che l'ha cercata perché non si vuol far identificare, avendo intenzione di non entrare nell'aldilà. Qualcuna si è al colloquio, buonasera. Santerasmo chiarisce che Rina va cercando l'aiuto dei demoni. Poi ai lupi lei va a chiedere. Rina afferma che la notte partecipa alle spedizioni dei demoni che vanno a fare del male alle persone. La notte io partecipo, la notte si parte in missioni. La notte si parte in missioni. Ma non c'è pace. Non c'è pace. Se Rina non si decida di entrare nell'aldilà, finisce in un fosso con i diavoli. Tra i diavoli sta in un fosso.